La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà lunedì per 35.600 studenti piacentini, ma in aula manca ancora il 30% circa degli insegnanti, in particolare quelli di sostegno. Con l'inizio delle lezioni prendono il via anche le nuove fermate delle linee extraurbane scolastiche in via Maculani. Il TAR conferma il no alla realizzazione di due nuovi supermercati in Corso Europa e in via Enaudi a Piacenza. In totale 4.300 metri quadrati di superficie di vendita, respinti i ricorsi di due costruttori. Nella prima puntata della nuova stagione di Nel Mirino protagonista la vendemmia del 2024 e il settore vitivinicolo. Le aziende sono drasticamente calate, ma la superficie media coltivata è aumentata. Ha preso il via stamattina la terza edizione del progetto diffuso di arte contemporanea XNL Aperto. Musei e gallerie insieme a spazio, teatro e cultura riaprono le porte per far scoprire il patrimonio culturale cittadino. Calcio Serie D dopo il passo falso dell'esordio, il Piacenza cerca domani l'immediato riscatto in casa contro il Corticella, mentre il Fiorenzo Alava a caccia di un altro risultato positivo sul campo del Sasso Marconi. Tutte le altre notizie sono a disposizione sul sito www.liberta.it.